Voglio approfittare di questa occasione anche per esprimere l'apprezzamento e il ringraziamento del Governo per il lavoro che svolgete ogni giorno per chiaramente difendere in Italia e all'estero la sicurezza, la libertà dei nostri cittadini per soccorrere i più fragili, per mettere in sicurezza chi si trova in salvo, chi si trova in situazione di pericolo. E poiché guardate per come la vedo io senza sicurezza non c'è libertà, non c'è crescita economica, non c'è protezione sociale, io penso che il lavoro che il vostro comparto svolge sia alla base stessa dell'essenza del concetto di comunità. La manovra finanziaria per il 2024 che mette le basi per ulteriori passi avanti, sono ovviamente parte di quello che ci troviamo a discutere oggi. Sulla base di quella manovra noi oggi, anche sulla base di quella manovra oggi abbiamo convocato anche un Consiglio dei Ministri in una seduta specifica dedicata all'esigenza del comparto e a varie norme che riguardano il tema della sicurezza che poi io cercherò di raccontarvi. Chiaramente per quello che riguarda la manovra la questione centrale è il tema del rinnovo dei contratti. Voi sapete che noi abbiamo stanziato complessivamente 5 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Il contratto che riguarda il comparto è scaduto nel 2021, se non vado errata, quindi insomma è tra quelli sicuramente un contratto che ha bisogno di essere rinnovato. In base ai calcoli che noi abbiamo effettuato, che ha effettuato il Ministero dell'Economia, tenendo conto chiaramente della massa salariale, delle retribuzioni medie, anche delle nostre priorità, perché io ho detto nella conferenza stampa che riguardava la legge di bilancio che per noi il comparto difesa e sicurezza era una priorità, diciamo noi riteniamo che non meno di 1,4 miliardi di questi destinati al rinnovo dei contratti debbano essere destinati alle forze polizie, alle forze almate e altri 100 milioni per quello che riguarda i vigili del fuoco. Quindi complessivamente un miliardo e mezzo di queste risorse dovrebbe essere interamente destinato al comparto che voi rappresentate.